Benvenuti, siamo con il professor Cristiano Rossi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Lucignano. Benvenuto professore. Grazie. Professor Rossi, lei di recente ha fatto un'esperienza in Finlandia con la sua scuola. Ci può raccontare di che cosa si è trattato? Sì, abbiamo fatto un'esperienza di mobilità internazionale con un gruppo di studenti, otto studenti delle scuole medie, ragazzi di 12-13 anni che insieme a due insegnanti a cui mi sono aggiunto anche io perché c'era appunto la possibilità di poter fare la mobilità anche per il dirigente scolastico e siamo andati appunto dal 25 di settembre al 1 di ottobre in Finlandia turco. Questo progetto coinvolge appunto questa scuola finlandese, la nostra scuola di Lucignano, una scuola francese e una scuola belga. Quindi questa è la seconda mobilità dopo quella che abbiamo realizzato a Lucignano nel maggio dell'anno scorso. Quindi siamo andati questa settimana a vivere un'esperienza e ragazzi accolti nelle famiglie finlandesi e vivendo appunto all'interno dell'esperienza scolastica una serie di occasioni formative che erano legate un po' alla nostra progettualità che è legata un pochino agli obiettivi dell'agenda 2030 quindi temi legati all'ecosostenibilità e l'ecologia e lo sviluppo sostenibile e quindi sono stati realizzati tutta una serie di attività che però ci hanno permesso di conoscere in maniera molto intensiva e quello che è il sistema finlandese. Arrivare in Finlandia è stata un po' una sorpresa per tutti noi, per tutti i ragazzi perché ci sono state una serie di occasioni che ci hanno permesso di capire anche qual è la diversità di questo paese rispetto anche a paesi del Mediterraneo o ai paesi dell'Europa continentale. Un aspetto che ci ha molto colpito è per esempio il profondo senso civico che c'è in questo paese quindi ad esempio durante la nostra settimana abbiamo partecipato abbiamo incontrato per caso tre o quattro manifestazioni una legata ai temi ecologici, una contro la guerra in Ucraina un'altra sulla questione delle donne iraniane tutte organizzate in una maniera molto molto inclusiva con la partecipazione di bambini con una anche modalità molto pacifica ma molto radicale allo stesso tempo e questa cosa ha colpito molto i nostri ragazzi perché è stato evidente anche il profondo senso di attenzione ai temi della mondialità e questo sicuramente è un aspetto che caratterizza poi tutto il sistema finlandese e probabilmente anche l'aspetto scolastico risente di questa grossa attenzione poi siamo stati all'inizio, il primo giorno, prima di andare a Turco siamo stati a Helsinki in autonomia da noi e abbiamo visitato la città in particolare c'è una biblioteca straordinaria nel centro di Helsinki che si chiama Odi che è una biblioteca costruita in legno e vetro che ospita oltre a una biblioteca tradizionale anche spazi di creatività sali di registrazione musicali, di produzioni di ediche in video di realizzazione di manufatti, tessuti in generale tutti aspetti legati alla creatività e anche questo è un aspetto che ci ha molto sorpreso perché anche in questo caso ci ha fatto capire come ci sia una forte attenzione a tutto campo, quindi non solo nel mondo della scuola ma a livello culturale nell'investimento verso la creatività quindi questa attenzione a consentire ai ragazzi, ai giovani di incontrarsi perché questi sono luoghi di incontro e in cui mettere insieme delle idee, delle competenze per sviluppare poi anche delle progettionalità nuove quindi anche gli aspetti innovativi Professor Rossi, in particolare visto che lei diceva l'aspetto dello scolastico e visto che l'aspetto scolastico è un progetto anche di fatti di cronaca che hanno registrato anche nel nostro paese che cos'è che vi ha colpito in particolare della vostra esperienza in Finlandia dal punto di vista scolastico? Allora, per certi aspetti ovviamente l'organizzazione è simile a quella di tutti gli altri paesi, anche il tempo scuola sono 30 ore però ci sono alcuni aspetti che sono sicuramente interessanti da prendere in considerazione uno per esempio è l'utilizzo delle pause le lezioni sono alternate, diciamo 45 minuti di lezione a 15 minuti di pausa questo consente ai bambini e ai ragazzi di poter alleggerire anche la concentrazione e l'attenzione poi alla lezione, all'attività che permette di rendere sicuramente più efficace certo ci vuole un senso civico importante anche in questo aspetto perché da noi probabilmente fare un quarto d'ora di ricreazione ogni 45 minuti diventerebbe mezz'ora o oltre invece appena suonava la campanella tutti i bambini, tutti i ragazzi che entravano in classe in maniera istantanea e ordinata e questo consentiva di rendere efficace questo tipo di organizzazione quindi rientrare alla lezione successiva anche con un alleggerimento fisico che è sicuramente estremamente funzionale in particolare per i bambini più piccoli ma in generale per tutte le età e poi ci sono due aspetti che mi hanno e ci hanno colpito molto nella visita che abbiamo fatto alla scuola dove eravamo ospitati voi sapete che le scuole finlandesse hanno un ciclo unico che parte dai 7 fino ai 16 anni quindi parte un po' da quella che è la nostra seconda elementare fino alla seconda superiore però all'interno di un ciclo unico e nella parte terminale quindi più o meno dai 13 anni, 12 anni, 13 anni i ragazzi frequentano da una parte dei laboratori di tecnologia che sono estremamente strutturati e ricchi di strumenti noi abbiamo visitato il laboratorio tecnologico della scuola che comprende strumenti come plotter, stampanti 3D, saldatori e tutta una serie di strumenti di farlegnameria, di meccanica che i ragazzi sanno usare ecco questo è un po' un aspetto che ci ha colpito l'insegnante che in quel caso era un ingegnere ovviamente con competenze anche pedagogiche, didattiche e funzionali ovviamente in gruppi adeguati di una decina di studenti lui ci raccontava che una volta che i ragazzi sapevano utilizzare gli strumenti la sfida era quella di invitarli a costruire, a progettare degli oggetti in quel momento per esempio stavano realizzando una lampada con un piccolo circuito elettrico e tutta la realizzazione appunto del design della lampada stessa ideato da uno studente e questo è sicuramente un elemento importante e il fatto che è significativo è che all'interno di questo contesto c'erano ragazzi e ragazze di tutte le etnie quindi anche ragazzine islamiche perché c'è un livello di immigrazione importante e molto ben gestito all'interno del sistema scolastico finlandese e questo ci ha dato anche un segno di quel superamento dei stereotipi di genere che invece da noi spesso impediscono alle ragazze di sperimentare questo tipo di attività che non si sperimentano nella scuola media e quindi difficilmente magari ragazze che hanno invece delle competenze legate alla creatività all'ambito delle nuove tecnologie dell'esterno in generale non scegliono magari degli indirizzi tecnologici perché non hanno avuto l'opportunità di sperimentarli così come invece le sperimentano le ragazze finlandesi all'interno del ciclo della scuola dell'obbligo quella del ciclo unico d'altro canto un altro aspetto sempre legato a questo aspetto dello stereotipo di genere che non esiste di fatto in Finlandia perché noi ci poniamo il problema dei stereotipi di genere in Finlandia probabilmente neanche se lo pongono perché appunto da una parte c'è questa accoglienza della tecnologia da parte di tutti i studenti e studentesse dall'altra c'è un'altra attività che si chiama economia domestica che è un aspetto straordinario noi abbiamo partecipato a un'attività con i nostri studenti all'interno di un ambiente della scuola in cui erano presenti otto cuscine complete più tutta una serie di strumenti che sono all'interno delle case quindi lavatrice ferro da stiro letti da rifare materiali di pulizia praticamente gli studenti e le studentesse imparano a gestire l'economia e la gestione di una casa in autonomia questo che cosa significa? che gli studenti anche in questo caso i maschi contraponedolo un pochino alla nostra situazione alla nostra esperienza culturale più mediterranea imparano a 14-15 anni 16 anni a fare la spesa a cucinare a pulire a gestire la casa e quindi avranno sicuramente una maggiore capacità di poter scegliere anche un percorso di autonomia in maniera noi diremmo precoce ma nel caso diciamo generale dovremmo dire nella giusta età nell'età in cui un ragazzo vuole essere autonomo e gestirsi l'autonomia in Italia questo è un aspetto totalmente capovolto in cui i ragazzi stanno in casa con i propri genitori fino a 25-30 anni fino a che magari non ci si sposa o non si va poi a convivere con il proprio compagno la propria compagna quindi questi sono due aspetti che da una parte e dall'altra secondo me come dire sono paradigmatici rispetto a questo superamento dello stereotipo di genere e questo ci ha molto colpito e nella nostra scuola per esempio abbiamo cercato un po' con con gli insegnanti anche con gli studenti di capire come declinarlo perché ovvio che non è non è come dire replicabile proprio perché c'è questo aspetto dimmi professor Rossi un altro aspetto che le volevo chiedere prima di arrivare a questo che le stanno ascennando era sul fatto che in Finlandia tutti gli alunni hanno a disposizione il cellulare e il tablet da poter utilizzare in classe che in Italia sarà anche oggetto di un dibattito sull'introduzione o su vietare l'ingresso di questi strumenti all'interno della classe cosa ha visto lei nella sua esperienza su questo campo particolare allora diciamo quello che abbiamo visto è la presenza all'interno delle classi di dispositivi sia analogici che digitali ecco questa completezza quindi nelle classi per esempio abbiamo trovato pianoforti divani quindi aree relax ma anche Chromebook o computer e tablet in particolare avevano utilizzavano gli iPad proprio perché probabilmente garantiscono anche un accesso attraverso una serie di applicativi alla creatività e quindi alla costruzione magari di percorsi di comunicazione e di restituzione diciamo legati ad aspetti di creatività io credo che come dire la scuola debba assolutamente essere in grado di gestire le innovazioni le innovazioni ci sono sempre state magari qualche anno fa potrebbe essere la lavagna luminosa o il proiettore o il ciclostile ai tempi di Mario Lodi era uno strumento innovativo e lui lo sapeva utilizzare Mario Lodi facendoci il giornalino di classe facendo Milani attraverso i rapporti pistolari immaginiamoci le mail e i blog di oggi quindi dobbiamo noi come scuola essere in grado assolutamente c'è una nostra competenza di aiutare i nostri ragazzi a utilizzare la tecnologia nella maniera più funzionale possibile quindi i tablet monitor le lim gli strumenti tecnologici sono di supporto complementare alla didattica tradizionale io sono un dirigente scolastico sono stato maestro elementare per 20 anni e diciamo da maestro elementare sono sempre stato come dire ho sempre fatto attenzione alla parte del corpo e quindi ad esempio della matematica l'utilizzo della palestra o dello spazio all'aperto dei materiali ma allo stesso tempo anche dei strumenti tecnologici quindi l'utilizzo di applicativi come GeoGebra o altri strumenti che i bambini sono in grado di utilizzare certo con il giusto con la giusta gradualità e anche con la giusta competenza a volte può essere anche utile utilizzare tablet o anche i smartphone per per fare magari delle attività di verifica o penso CAUT che è un programma che molti insegnanti utilizzano per fare delle verifiche che sono anche come dire stimolanti per i studenti perché utilizzano una modalità a loro vicina e poi dobbiamo aiutarli questo è fondamentale ovviamente a gestire anche per gli aspetti diciamo sociali che afferiscono alla tecnologia che sono nello smartphone ma sono nei social in generale quindi la gestione delle chat la gestione dei social media è l'aspetto legato alle forme di comunicazione di vessazione di bullismo o di violenza mediatica che ci può essere questo è un aspetto su cui la scuola non può esimersi certo avere il cellulare in classe per fare telefonate per riprendere gli insegnanti questo deve essere vietato ma lo è già quindi la nota del ministro voglio dire è una dice un'ovvietà che la scuola ha da sempre fatto non esistono scuole in cui è consentito l'utilizzo attivo del cellulare in classe magari ci sono alcune scuole in particolare superiori penso in cui è consentito la possibilità di portare il cellulare in classe tenendolo spento altri magari invece richiedono di poterlo lasciare all'ingresso o alla alla cattedra però questa demonizzazione da una parte o dall'altra diventa come dire un aspetto più ideologico ecco che non pragmatico noi dobbiamo essere pragmatici dobbiamo essere come dire diciamo dobbiamo essere consapevoli che questo è un nostro compito è un compito della scuola come lo sono tanti altri di carattere sociale anche i rapporti con le famiglie con la comunità educante quindi è un compito molto complesso quello della scuola non si limita soltanto ad insegnare matematica italiano e poco più ma ecco professore Rossi lei parlava appunto diciamo delle materie una caratteristica della scuola finlandese è quella dell'apprendimento olistico quindi dell'insegnamento che va al di là delle materie un po' quello che diceva anche Edgar Morin quando parlava della società complessa è che la scuola per semplicità la spacchetta in materie poi avete avuto possibilità di vedere questa metodologia applicata sui ragazzi allora hai citato un filosofo sociologo estremamente significativo Morin richiama in maniera pragmatica e competente cioè quello che noi dobbiamo essere consapevoli noi purtroppo parcellizziamo troppo le materie le spacchettiamo le suddividiamo in discipline sottodiscipline ma anche la scuola media cioè quindi se alla scuola elementare la scuola primaria riusciamo un po' e perché abbiamo magari meno insegnanti quindi c'è un po' più di trasversalità e perché comunque le materie non sono di fatto materie perché sono come dire ambiti ambiti culturali più che già le medie si fa fatica a far capire ai ragazzi che quando si studia la storia si studia anche la tecnologia si studia la lingua si studia la geografia e tanti altri aspetti che sono collegati tra di sé ecco questo è un aspetto che noi non abbiamo avuto modo di percepirlo perché diciamo la scuola finlandese sicuramente ha un grande pregio in questo aspetto del primo ciclo i risultati abbiamo anche incontrato un parlamentare all'interno del Parlamento di Helsinki l'ultimo giorno che ci raccontava appunto questo aspetto che nel ciclo primario la Finlandia ha avuto ora negli ultimi anni è un po' in difficoltà ci sono alcuni elementi di criticità quindi anche questo aspetto si rendono conto anche loro che per esempio dal punto di vista economico tutto quell'investimento che è stato fatto magari fino a 5 10 anni fa nell'ultimo periodo è un po' in crisi mentre il settore secondario per esempio le scuole superiori non raggiunge quei livelli la Finlandia si è eccellente nel settore primario non lo è nel settore secondario certo un aspetto importante ecco questo mi preme evidenziarlo è che almeno i ragazzi riescono a poter scegliere un percorso professionale o secondario diciamo con la prospettiva universitaria a 16 anni questo è un grosso limite del sistema scolastico italiano ma in generale dei sistemi del sud Europa insomma italiano anche spagnolo o di altri paesi in cui a 14 anni bisogna scegliere il futuro la scuola la scuola superiore quindi ecco sicuramente come dire questo aspetto della creatività facendo un pochino l'esempio dei laboratori di tecnologia ci fa capire come questa visione olistica possa come dire essere messa a valore all'interno del sistema scolastico finlandese perché nel momento in cui tu offri ai studenti la possibilità di creare di sperimentare sono loro stessi che raccolgono le competenze dai vari ambiti tra virgolette disciplinari e ne fanno come dire una sintesi attraverso un prodotto un lavoro un'idea un progetto quindi ecco su questo bisogna fare molto è un aspetto molto molto difficile ma che come dire un altro aspetto che di Morenne mi preme ricordare che noi non bisogna riempire la testa è una testa ben fatta è una testa in cui non si inseriscono nozioni noi dobbiamo anche superare questo aspetto che è un po' tipico della scuola italiana di stampo gentiliano cioè in cui si inseriscono comunque nozioni che voglio dire oggi si possono trovare tranquillamente in un istante attraverso i dispositivi immobili noi dobbiamo acquisire delle competenze la competenza di ricerca delle informazioni dell'utilizzo delle informazioni che abbiamo a cui abbiamo accesso le enciclopedie oggi non esistono perché ce l'abbiamo ce l'abbiamo nel telefonino e quindi quando abbiamo bisogno di una traduzione dobbiamo saperle utilizzare ecco qui ancora di più oggi abbiamo necessità di questa visione olistica cioè saper utilizzare le nostre conoscenze attraverso le competenze che la scuola ci deve offrire questo è sicuramente la sfida e forse siamo ancora un po' la nostra generazione di cinquantenni un po' ancorati a questo retaggio culturale di questa scuola in cui se non si insegnano nozioni sembra che non si insegni nulla invece spesso sono effimere perché le nozioni che impariamo durano un certo periodo e poi la memoria a breve termine come dire le fa le fa sparire nel limbo del nostro cervello e tutto quell'investimento di studio mnemonico che abbiamo fatto viene a perdersi invece una competenza strutturata fatta anche a livello pratico laboratoriale operativo e anche aggiungo io emozionale come la Lucangeli spesso ci ricorda sono quegli elementi che ci rendono duraturo e permanente quella competenza che rimane per tutta la vita allora se noi dobbiamo formare dei cittadini degli studenti dobbiamo formarli non certo perché duri la loro formazione per tre mesi un anno e poi sparisca ma per tutta la vita quindi dobbiamo trovare questi strumenti più efficaci chiudiamo con un'ultima domanda lei stava accedendo prima del fatto di replicare l'esperienza anche qui in Italia ovviamente le strutture sono differenti dalla Finlandia investito molto anche nel costruire nuove scuole noi abbiamo un'edilizia scolastica soprattutto in molte realtà anche obsoleta e vecchia è possibile replicare almeno in parte o quantomeno prendere spunto dall'esperienza finlandese per migliorare il nostro modo di fare scuola allora ti rispondo così lo stiamo già facendo lo facciamo l'abbiamo sempre fatto è ovvio che a livello sistemico non è facile perché non ci sono le risorse che ci sono in Finlandia e soprattutto non c'è quella cultura civica che c'è nei paesi scandinavi quindi questo è un pochino forse il nostro limite quindi non è possibile replicare ma è doveroso come dire mettersi in relazione queste esperienze di Erasmus che facciamo anche come docenti sono proprio occasioni in cui ci incontriamo ci scambiamo buone pratiche quindi se ci sono delle buone pratiche delle azioni che possono mettere a valore qui ho portato l'esempio di questi due aspetti il laboratorio tecnologico accessibile anche alle ragazze e un'attività di economia domestica offerta agli studenti oppure delle pause o pause attive spesso si parla anche di pausa attiva come pausa che si può svolgere anche all'interno della classe però come momento di riposo di stacco perché questo è un aspetto oggettivamente di necessità ogni scuola può e deve declinarlo nel proprio contesto quindi non esiste un modello unico perché come dicevi tu ci sono scuole magari strutturalmente più adeguate alcune che hanno anche degli ambienti già strutturati altri che non lo hanno quindi un po' la creatività del dirigente scolastico e degli insegnanti è quella di valorizzare al massimo quelli che sono gli ambienti e le risorse per come dire per replicare quelle che magari ci sono alcuni aspetti dell'esperienza finlandese ora magari nei prossimi anni andremo in Spagna in Francia in Belgio in Malta in Irlanda o in altri paesi europei e magari scopriremo alcuni aspetti che potrebbero essere replicati nella nostra scuola finisco con una osservazione una cosa che quando invece i finlandesi sono venuti in Italia maggio scorso durante la loro visita alla nostra scuola sono rimasti sorpresi è dell'inclusione noi nelle nostre scuole abbiamo bambini diversamente abili anche con gravi disabilità che partecipano all'interno della classe con le attività di inclusione attraverso l'insegnante di sostegno ma anche attraverso la relazione con gli altri bambini altri ragazzi questo è un aspetto che in Finlandia ma in generale in molti paesi europei non esiste quindi ecco questo per dire che la nostra legislazione e la nostra cultura dell'inclusione per la disabilità io credo che sia un'eccellenza del nostro sistema scolastico perché sì ci sono aspetti di criticità ti posso dire la valorizzazione di insegnanti con il fondo di istituto è una cifra ridicola quindi quando parliamo anche di valorizzare gli insegnanti se non ci sono risorse per consentire a chi magari fa il vicepreside il fiduciario o il coordinatore di classe di avere un giusto riconoscimento e non quella cifra simbolica e basta diciamo che viene distribuita attraverso questo fondo certo non si può fare nulla però ecco l'inclusione sull'inclusione dobbiamo essere orgogliosi di avere un sistema che può fare scuola agli altri perché lì per esempio in Finlandia hanno delle classi di sostegno in cui ci vanno bambini ragazzi che hanno bisogno di un aiuto o di un supporto anche temporaneo prima di rientrare in classe quindi c'è una sorta di lavoro in esclusione in piccolo gruppo o individuale che da noi è invece residuale come azione noi di solito lavoriamo insistiamo perché si possa lavorare all'interno della classe perché diventa anche un'opportunità formativa straordinaria per i bambini e le bambine che sono in classe con i bambini con diversa abilità perché impagano acquisiscono competenze relazionali che poi li formano loro stessi quindi questo mi preme evidenziarlo perché bisogna essere orgogliosi anche delle nostre eccellenze come questa grazie professore per essere stato con noi grazie a lei